Allora, oggi visita del penitenziario di Salerno, ma continua la campagna di raccolta firme dei radicali? Sì, del partito radicale, su otto proposte di legge di iniziativa popolare che riguardano i temi della giustizia, del carcere e delle riforme istituzionali. È una campagna che si svolge nel silenzio dei mezzi di informazione, purtroppo, e quanto al carcere io ci ritorno dopo un po' di anni. L'ho visitato sicuramente quando ero parlamentare e anche dopo. Questo è un carcere difficile, come lo sono molti penitenziari, la maggior parte dei penitenziari italiani. Quello che è importante è che il 22 di questo mese mi incontrerò con il Ministro della Giustizia. Era un incontro che gli avevamo chiesto già come partito radicale dal mese di agosto. Ho dovuto fare uno sciopero della fame per ottenerlo, perché la situazione delle carceri sta diventando drammatica. Ormai c'è un aumento annuale tra i 2.500 e i 3.000 detenuti. Stiamo arrivando ai livelli della sentenza Torreggiani. Il fatto che ci siano già stati 58 suicidi nelle carceri da parte dei detenuti, credo che sia un sintomo di malessere. Anche qui ci sono state delle morti. Un sintomo di malessere profondo che ci dimostra che la pena in Italia non viene scontata secondo i criteri di legalità costituzionale. Il problema è il sovrappollamento degli spazi, il problema è anche la sicurezza dei detenuti, ma anche di coloro che lavorano all'interno degli istituti penitenziari. Certo, però voglio sottolineare un dato perché siamo andati a vedere qual è la situazione per esempio del personale. Noi abbiamo che oltre l'80% del personale è costituito da agenti di polizia penitenziaria. Solamente il 2,15% è costituito dagli educatori. Mancano quasi del tutto, sono poco presenti le altre figure trattamentali come gli psicologi, gli assistenti sociali. E allora uno riflettendo su queste cifre dice ma il carcere, secondo Costituzione, non dovrebbe essere qualcosa che fa migliorare le persone che vi entrano? Lo dice l'articolo 27. E invece tutto è destinato quasi esclusivamente alla sicurezza e poco al trattamento dei detenuti e quindi il lavoro, lo studio. Coltivare gli affetti della famiglia perché una volta finita di scontare la pena poi dove ritornano i detenuti? Nel loro ambiente, in famiglia, quindi coltivare gli affetti è qualcosa di fondamentale. E poi non c'è nessun aiuto, seppure previsto, nel momento del ritorno nella società e quindi la possibilità di poter lavorare, la possibilità di uscire da un mondo che li aveva portate queste persone a delinquere. Tenete presente che nelle carceri la maggior parte di coloro che vi sono detenuti sono tossicodipendenti, casi psichiatrici e persone che vivono ai margini per povertà nella società. Questo è il grosso. Poi ci sono altri tipi di detenuti ma è proprio sintomo del disagio sociale, cioè i casi psichiatrici che vanno a finire in carcere e che gravano poi nell'amministrazione del carcere, vuol dire che non sono seguiti sul territorio. Da qualche istante l'onorevole Bernardini con il dottor Donato Salzano è entrata nel carcere di Forni con una delegazione in visita alla struttura e ai detenuti. Una speranza e tante aspettative. Oggi pomeriggio una conferenza stampa a Salone dei Marmi a Salerno e un compegno sulle otto proposte di legge. Speriamo in un futuro sicuramente migliore per la giustizia italiana, per i detenuti e per le aspettative dei familiari.